Allora ragazzi, abbiamo visto qui, faccio il profilo, abbiamo lavorato sul punting oggi, il punting sul lato destro, chiaramente abbiamo visto che è la forbice. Quando faccio la forbice vi ho fatto vedere diverse alternative, il punting mi serve non solo per infortunare chiaramente il braccio lato dell'avversario, ma per entrare con una varietà di tecniche diverse, un bel venutaio. Posso lavorare da striker, quindi da qua esco e colpisco classico. Posso lavorare, faccio la tecnica che ho fatto anche a bordo, la prima, entro, tecnica, arriva il pugno, colpisco e entro, quindi una tecnica classica del mano a mano ancora, da qua, posso crearmi delle proiezioni, faccio quella con il pon, posso lavorare anche con proiezioni di greppi standard come quella che avevamo visto all'inizio. Quindi, arrivo qui, entro e chiudo ancora. Da qua. No. Ok? Posso lavorare in mille modi anche con la chiave americana e pubblica, che ho fatto vedere a voi ragazzi, quindi da qua, uno, due, e dentro. Dalla chiave americana chiaramente, mettendo peso e tutto quanto, posso proiettare e controllare. Entro subito in rottura, poi chiaramente se faccio greco, tra altre discipline, chiudo l'arba, ok? Quindi, i punti mi lascia sbariate possibilità. Adesso, chiudiamo con tutto due minuti di plank. Grazie ragazzi. Grazie. Oh, plank!